E non vi preoccupate, ce lo dico io. E noi stiamo in confidenza. E trovo le parole giuste. Sì, state tranquilli, ce lo dico io e vi farò sapere. Arrivederci signore, i miei ossegui. Marisciallo, e che è successo? Alduccio, Alduccio. Che cosa è successo? Tengono il dolore e la molla, che dino a trovare il mio cuore. Adesso mi volevo suicidare, ma mi volevo un bacio. Marisciallo, con tutti i rispetti per il vostro dolore. Dile avesse fare una domanda un po' intima. Fai un prezzo, 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 fai un prezzo che stiamo morando. A me il mamma mi ha telefonato la vostra moglie. Mia moglie? Ehi, con un telefonino mio. Che vado a trovare? Che vado a trovare mio amore? Vuole sapere voi perché non state andando a mangiare la tua casa? E' una settimana che non vi vedo più a mangiare. Ah, ah, ah. Come se la cocca da femmina. Ah, quella femmina, quella femmina, quella c'è lui. E beh, perché non state andando a mangiare la casa? Perché sono andato dal dottore. E che c'è entrato tu? Sono andato dal dentista. E allora? Ha detto tutto qui a destra, mi fa male il malare in una maniera incredibile. E chi dà il tuo occhio per il momento non posso dire niente perché ci sta l'infezione. Per non soffrire devi mangiare da un'altra parte. Ecco, per questo non sto andando più a casa. Per il di più dà il mio amore, è l'accomandante. Se fosse un'azobazione, eh. Ha, ha. Ha, ha.